music, news, sport every day for you on the web lecochannel.it, the blue light, blue radio lei è un pessimo esordio in questo campionato primo tempo sempre in ritardo avete provato a partire in un modo diverso nella ripresa poi è arrivato il gol di Santana che ha legittimato quello che è stato il gioco della Propatriane che è stato sicuramente superiore al vostro sì, una sconfitta meritata sappiamo dove abbiamo sbagliato ripartiremo al meglio perché comunque una prestazione così non ce la possiamo permettere siamo una squadra comunque attrezzata abbiamo sbagliato tanto però la fortuna del calcio è ripartire abbiamo la possibilità di farlo già domenica il dispiacere per i tifosi che ringrazio e che sono venuti in tanti e niente, ti ripeto brutta prestazione non si salva nessuno a parte Nava che ha fatto delle gran parate però non va bene nel senso io da capitano mi metto in primis davanti e ripartiremo cause tattiche quindi la Propatria più brava problemi a livello fisico ovviamente una forma ancora da migliorare oppure a livello mentale che siete mancati no ma noi fisicamente stiamo bene abbiamo un preparatorio atletico che non ce l'ha nessuno bravissimo forse mentalmente abbiamo subito un po' la Propatria sono stati bravi loro ma sia stati anche tanto ingegno noi quindi un plauso alla Propatria e male noi comunque complimenti a loro che hanno vinto e ti ripeto ci tireremo sulle maniche e ripartiremo al meglio grazie buon lavoro grazie Giacomo un esordio personalmente positivo voglio dire tenuto sulla baracca come si usa a dire con un paio di interventi importanti ovviamente questo te ne fregherà abbastanza poco perché poi quando la palla finisce dietro le spalle si perde tutto diventa una chiacchiera certo purtroppo diciamo è stato tra virgolette un esordio positivo ma bisogna guardare è più importante l'approccio della squadra me compreso al match che purtroppo è mancato è stato scarso per diversi motivi comunque bisogna davvero prima partita qua a Lecco vorrei ringraziare comunque i tifosi che fino al 95esimo ci hanno sostenuti senza mai fischiare senza mai anche perché abbiamo avuto una brutta prestazione brutta prestazione da cui bisognerà ripartire immediatamente ci sarà il ritorno in casa contro un'altra formazione forte come come avevamo avevamo già parlato anche pochi giorni fa si vederà subito di che posto siete fatti sicuramente sicuramente io ti dico personalmente così come il gruppo vorremmo che si potesse giocare già domani perché quel che si è visto oggi in campo non sono le qualità nostre non è quel che possiamo dare quindi non vediamo l'ora di riprendere ad allenarci martedì con grande impegno andare in campo domenica come l'eco la città merita che noi facciamo grazie Giacomo buon lavoro grazie mister una partita no sì direi decisamente non siamo riusciti ad esprimerci sapevamo che era una squadra che stava bene aggressiva strutturata però non ho visto non ho visto il lecco e soprattutto i ragazzi che io conosco oggi abbiamo subito sotto l'aspetto dinamico sotto l'aspetto fisico e non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato niente di quello che avevamo preparato e quindi cercheremo di capire perché te l'aspettavi un esordio così nel senso chiaro la squadra è nuova sta insieme comunque da non più di un mese e mezzo e alla terza partita ufficiale lecito sicuramente aspettarsi di più ma cosa può avervi tradito? ma credo ci siamo un pochino disuniti nel senso che pur sapendo come giocavano loro eravamo preparati sul fatto che erano molto aggressivi che avrebbero avuto due giocatori veloci davanti ma siamo mancati sotto l'aspetto della risoluzione dei problemi poiché loro giocavano con un 3-4-1-2 con un giocatore che ci lavorava tra le linee l'accorgimento era abbastanza semplice ma non siamo riusciti a porvi rimedio e poi quando avevamo in possesso troppe volte abbiamo picchiato via la palla cosa che in precedenza non facevamo e questo non ci ha permesso di giocare palla poi se ci mettiamo anche il fatto che quando la giocavamo giocavamo palle altissime quindi per gli attaccanti era oggettivamente impossibile contro difensori strutturati riuscire a difendere un pallone abbiamo fatto il contrario di quello che avevamo preparato e questo vuol dire che non siamo stati bravi nell'interpretazione della gara e dobbiamo migliorare molto in questo senso su quella fascia quella di destra che era sotto i tuoi occhi nel primo tempo hai provato prima Moleri Largo con Bellanca all'esordio che si sta allenando comunque con voi già da un po' dentro il campo poi li hai invertiti poi hai provato ovviamente si è passato anche a quattro dietro per provare a recuperare la gara insomma c'è stato anche lì un po' di trambusto se vogliamo ma abbiamo provato ad essere un po' più aggressivi in avanti a mettere in campo giocatori un po' più freschi ho cercato di vedere se cambiando le forze in campo cambiava qualcosa ma oggettivamente non è cambiato niente perché ho messo davanti Patrick e Patrick non è riuscito a dare una mano all'attacco anzi ha fatto una cosa che non è da lui perché comunque è un ragazzo in gamba e quindi non me l'aspettavo poiché lui è entrato fresco pensavo aiutasse in maniera positiva la squadra invece ha avuto una reazione sbagliata sicuramente dettata dalla frustrazione però capisco un giocatore stanco che è frustrato fa una sciocchezza da lui non me l'aspettavo e anche col 4-3 però la sostanza non è cambiata non siamo riusciti abbiamo giocato forse un pochino di più ma oggettivamente troppo poco ripeto è una squadra che può e deve fare molto di più e lavoreremo anche sotto l'aspetto fisico vedendo di di dargli un po' più di brillantezza per domenica però mi sembra un po' una scusante credo che potevamo giocare molto di più la palla non l'abbiamo fatto e questo ci siamo consegnati ai nostri avversari grazie mister buon lavoro grazie music news sport every day for you on the web leco channel.it the blue light blue radio no